Tiro da tre sbagliato da parte di Thomas Dinsha, il spazio di Carolani che vuole pompare nelle casse, arriva dall'altra parte con la bimane. 17 punti per l'ex giocatore di Biella e Brescia. Ora Achele, tiro complicato girandosi verso il fondo, però le mani per segnare un tiro per quanto difficile ce le ha. Rimbalzo di Bradford, preso per il momento ancora secco in questo secondo periodo dopo oltre 100 secondi. Forrai dall'angolo, prende la prepla e assegna il capitano. Con la chance quindi per Trento, Flaccadori penetra, scarica per Williams, a tanti metri per alzarsi dall'arco, ma la tregua è sbagliata, rimbalzo di Cameron Reynolds. Le fa valere la sua taglia, ultimi 2.38 nel primo tempo. Dentro da Sims che prova a fronteggiare contro Williams, riesce a costruirsi con il fisico lo spazio per attaccare. Canestro di Sims e poi fischio arbitrale che va contro di lui per un colpo a Jonathan Williams. Sims vede sotto Sokowoski, gran passaggio e canestro di Mikhail Sokowoski. Sims vede contro Caroline, aspetta che si liberi il quarto di campo, poi vede il taglio di Bortolani, grande assist. Ora Dimcia che alza il pallone per Sims, sembrava non poterci arrivare. Continuano a scambiarsi, sorpassi e controsorpassi le due squadre, Flaccadori fuori per Forrai. Rimane quindi a più 4.30 che Branco una volta gioca molto bene in difesa, altro recupero. Flaccadori, alza per Caroline. Entro nella versione playbacker. Treviso con il pallone del sorpasso, Sokowoski, palla schiacciata dentro, difficile per Aaron Jones, che vada a fondare le mani nel canestro. La palla però ancora per Treviso, chiaramente non si sono riciclati i secondi. Ne mancano 4 per chiudere l'azione. Russell vuole battere Bradford. E' tutto un altro giocatore rispetto al Dewey Russell dai primi 20 minuti. Adesso stoppata la tripla di Casarin. Bradford viene fermato nel tentativo di condurre la transizione. Forrai con la tripla pesantissima. E più è pesante, più piace a voto Forrai. Russell, ultimi tre secondi dell'azione. Grande palla dal palleggio. Dentro per Aaron Jones, che ne trova altri due. Parzialino di 4.0, trotterellando. Allora Forrai va da Flaccadori. Ancora Caroline, ribaltamento Forrai, ancora una volta da tre. Ancora sotto Forrai. Russell contro Flaccadori. Vede Sokowoski, anche lui da tre, dalla stessa zona di Dimpsa. Con il tabellone a dargli una mano. Anche la fortuna ad aiutare Treviso. Flaccadori trova Bradford con il piede sulla riga laterale. Non se ne accorgono gli arbitri. Ma comunque il tiro è sbagliato. Da De Sokowoski a Bradford si interrompe la mini striscia di due sconfitte consecutive.